Racconta, è un melo che si innamora di un bambino e visto che di amore si parla osservate cosa potremmo fare per coccolare un nostro affetto. Gli iscritti rimangono, i gesti concreti anche. Spesso la routine familiare allontana proprio da chi ci è vicino. Donatele, noi le offriremo l'Italia perché oggi si festeggia la giornata dell'Unità Nazionale e noi vi diamo appuntamento alla prossima videonovella. Grazie a tutti.